Il Frosinone è scatenato sul mercato, specialmente nell'ottica di andare a rinforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i sociali oltre ai due nomi già noti di Rossettini del Genoa e Jacopo Sala della Sampdoria, stanno seguendo anche altri due profili. Il primo è Erwin Zucanovic del Genoa, il secondo è Cristian Molinaro, esperto terzino sinistro del Toro. Per la difesa, invece, il Frosinone sta seguendo diversi profili, tra cui Goldaniga del Sassuolo e Rossettini del Genoa. I due centrali, entrambi accostati al Frosinone, potrebbero sia arrivare in Ciociaria, ma all'arrivo di uno escluderebbe l'altro. Entrambi piacciono alla dirigenza canarina, ma solamente uno dei due potrebbe arrivare a Frosinone. Doppio obiettivo, invece, per il centrocampo giallo-azzurro. Il club Ciociaro sta pensando, infatti, a Stefano Sensi del Sassuolo e a Marcello Falzerano del Venezia, per regalare volti nuovi e opzioni in più a Moreno Longo in vista della prossima stagione.